L'interlocutore privilegiato resta sempre lui, Silvio Berlusconi, punto di riferimento dell'Italia di ieri e dell'Europa di oggi. Anche se il partito è partito, nel senso che non c'è più la democrazia cristiana, nata a Pescara nel 2005, Ivi muore nel 2019. A dare l'annuncio è il presidente dimissionario Gianfranco Rotondi, che ha scelto Pescara non perché qui è stato eletto, ma appunto perché è la città che ha dato i Natali alla nuova DC. Un partito che da oggi non c'è più, mentre resta al suo posto, alla Camera dei Deputati, nel gruppo di Forza Italia, lo stesso Rotondi. Gli altri, eletti o elettori, sono liberi di andare, possibilmente scegliendo la Casa del Cavaliere, un tempo nota appunto come Casa delle Libertà. Forte di un 3%, un tantino sovradimensionato nei proclami, ma reso più umile dal riconoscimento del crollo di ogni velletà di governo, l'ADC chiude la porta, sbattendola in faccia soprattutto a Matteo Salvini, populista supremo, condannato senza appello nella follata conferenza stampa di Pescara, proprio dal presidente dell'ADC Gianfranco Rotondi. Non basta dire rifaccio l'ADC. Abbiamo avuto il 3%, ringraziamo gli abruzzesi, ringraziamo i piemontesi, dove pure c'è stato un bel risultato, ma l'Italia è oppressa da due populismi che ci costringono ad alzare l'asticella della risposta. Non è più tempo di partitini, non è più tempo di piccole scommesse. E allora abbiamo deciso di sospendere l'attività della democrazia cristiana come partito. Cosa facciamo del nostro simbolo, del nostro nome? Lo devolviamo ad una fondazione, alla fondazione Fiorentino Sullo, che diventerà fondazione democrazia cristiana, con lo scudo crociato. Chiudiamo i cespugli della Seconda Repubblica, cioè il CDU e la democrazia cristiana. Cosa diveniamo? Un partito non partito, come il partito radicale. I democraziani saranno un partito che non presenta liste. Perché? Perché ci sta ammazzando la mancanza di cultura politica. Oggi si vota quello che un tempo sarebbe considerato una macchietta, cioè i due partiti populisti. Perché abbiamo smarrito la cultura politica? Chiudiamo in bellezza perché diamo al primo turno, con i nostri voti, a Pescara un grande sindaco che ha ideali e valori consimili a quelli democraziani. Silvio Berlusconi, che in tutti questi anni non ci ha mai fatto mancare ascolto, affetto, vicinanza e ci ha difesi. Rimarrà lui il nostro interlocutore privilegiato.